Sono Giorgia, sono una volontaria Leida, lui è Wolf, lo ho chiamato così perché purtroppo la sua famiglia è deceduta per Covid. Wolf girovagava da solo nei boschi di Zavattarello, un paesino in provincia di Pavia. Si avvicinava alla città solamente in cerca di cibo, così che gli abitanti a un certo punto hanno chiamato Leida per cercare di salvare la vita. Leida è intervenuta immediatamente con il suo team e con un veterinario specializzato nella cattura degli animali. Il cane quando sono arrivati i soccorsi è uscito di casa, è terrorizzato e stiamo tentando in tutti i modi di poterlo portare in sicurezza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.